Voglio parlarvi di Happy People in Happy Companies, il programma che genera successo per le aziende perché attiva la consapevolezza e la felicità in ogni individuo che ne fa parte. Ho lavorato per tanti anni in una grande banca d'affari e sono stata veramente molto fortunata. Ho vissuto un'esperienza impagabile. Ho poi conosciuto e vissuto le dinamiche e le sfide all'interno di una grande corporation americana. Sperimentare tutto questo così a lungo e di persona ha generato in me il grande impulso ad andare più a fondo. Volevo sentire più che comprendere quale potesse essere l'intervento più efficace per cambiare veramente il clima aziendale, per andare oltre ogni difficoltà, oltre ogni conflitto palese o sottile e generare il fluire della comunicazione interna, la collaborazione autentica tra colleghi e reparti diversi. Infine, per generare la gioia di lavorare in azienda così come l'avevo provata io. Incontro tante persone e osservo con distacco ormai da fuori che la grande maggioranza dei dipendenti è sordidamente dedita alla lamentela. Accusa gli uni o gli altri. Si sente vittima di un sistema dal quale si sente estranea. Alla fine, impiegati e dirigenti lavorano per lo stipendio. Lavorano in un'azienda ma non sanno come concepire l'idea di essere felici lavorando. Immaginate invece una banca o un'azienda in cui ognuno si senta al posto giusto, contribuisca con il suo operato, indipendentemente dal ruolo che ricopre, con gioia, con entusiasmo. Si senta parte di un progetto, di un sogno imprenditoriale. Immaginate persone che non lavorino più meccanicamente, persone tutte importanti perché stanno compiendo un'opera meravigliosa tutte insieme. Ecco, per arrivare a questo risultato è necessario un tipo di formazione che sia totalmente orientata al nutrimento della parte invisibile dell'essere. Sì, dell'essere persona, individuo, prima ancora che impiegato o dirigente. Come si può intervenire? Intendo autenticamente intervenire. In che modo si possono cambiare le cose? Godere dell'evoluzione aziendale a tutti i livelli? Come si può vedere la curva del valore in ascesa di pari passo con la curva dei profitti? Ecco, per fare questo è necessario un capovolgimento. Dalla formazione sulle competenze al nutrimento di ogni individuo che fa parte di un'organizzazione. Le nuove competenze necessarie si innesteranno su un terreno più fertile, realmente pronto a quel punto a metterle in pratica nell'operatività quotidiana. Allora sì che daranno i frutti. La formazione così intesa passa dall'essere un costo all'essere un nutrimento. È un investimento sicuro. Il programma Happy People in Happy Companies, condotto da un team di professionisti di alto livello, competenti in varie discipline, genera attraverso la condivisione della conoscenza e il vissuto dell'esperienza, risultati davvero sorprendenti. L'azienda è fatta di persone e anche questo lo abbiamo sentito dire mille volte. È arrivato però il momento di dare profondità a questa affermazione. Persone più felici generano soluzioni laddove c'è sempre stato caos, confusione e lentezza nel prendere la direzione giusta, efficace ed efficiente. Persone più felici collaborano le une con le altre laddove c'è sempre stato conflitto palese o sottile. Persone più felici portano la loro stessa felicità ovunque siano, nei contatti con i fornitori, i clienti, con ogni controparte. Le aziende sempre più sanno, intimamente sanno, che è arrivato il momento di unirsi a un livello superiore. L'invisibile che prepara il visibile, visibilia ex invisibilibus. La rinascita delle aziende attraverso la rinascita di ogni individuo che ne fa parte è quindi possibile. Solo un'azienda unita e compatta può veramente avere successo. Quando invece regnano le divisioni, serpeggia il malumore, la motivazione è bassa, la percezione del coinvolgimento sul progetto imprenditoriale è assente. Le regole e la disciplina non sono supportate dalla passione, dall'entusiasmo e dalla gioia di partecipare. Quando ancora l'integrità è solo una parola, allora il seme del fallimento si è già insinuato. Il programma Happy People in Happy Companies ristabilisce l'equilibrio. Genera la soluzione dei conflitti attraverso un lavoro sulla consapevolezza di ciascun individuo. Aumenta la creatività, i dipendenti si trasformano in sostenitori di un progetto di successo. Happy People in Happy Companies favorisce una drastica diminuzione delle malattie, assenteismo per esempio, e quindi dello stress correlato. Aumenta l'efficacia e l'efficienza operativa. La velocità di azione diventa regolare, addirittura agevola l'uscita semplificata delle risorse non adeguate alla realizzazione del progetto aziendale. Dà vita allo sviluppo armonico dell'intero business. Produttività e profitto fluiscono. Non ultimo, l'impresa diventa esempio di azienda sana, evoluta e felice, con conseguenti grandi benefici a livello di immagine. Quasi nessuna realtà è esente da dinamiche da modificare e solo le aziende lungimiranti hanno la saggezza di intervenire concretamente con un programma che ne modifichi o amplifichi l'andamento complessivo. Aggiungo che l'invisibile ha veramente sempre bisogno di una lunga preparazione e solo e soltanto chi sanno usare per tempo la necessità di intervenire in maniera completamente diversa rispetto a quanto fatto in passato può eliminare il germe di un andamento di sopravvivenza e quindi il germe dell'insuccesso. Sì, perché anche se la performance è buona ci si dovrebbe sempre chiedere come posso fare in modo che sia ancora migliore. Sono a disposizione per un primo incontro, per presentare di persone in maniera approfondita il programma a tutti i capi di azienda e ai capi della formazione autenticamente interessati a dare un impulso completamente diverso, così da poter generare nuove dinamiche di benessere e sicuro successo per gli individui e per l'azienda tutta. Potrei mettere online una presentazione del programma? Potrei inviarvela certamente, ma so che non servirebbe. So che è finito il momento delle carte ed è arrivato quello del sentire. le carte sono pronte, è ovvio, seguiranno, però solo dopo che tu capo azienda, tu capo della formazione avrai scelto di investire un'ora del tuo tempo per conoscere meglio Happy People in Happy Companies. Grazie e a presto!